Devo dire che stamattina sono passata dalle classi, ho salutato i ragazzi, sono stati molto bravi perché noi li avevamo avvisati di portare la mascherina FFP2 e loro sono stati molto attenti perché sono venuti tutti muniti di mascherina FFP2 e quindi hanno tranquillamente ripreso l'attività in presenza. Io non entro nel merito di quelle che sono decisioni e competenze che non sono dell'autonomia scolastica, su queste decisioni c'è il ministero e gli organi competenti quindi io sono assolutamente qua per garantire il servizio, in qualsiasi modo lo decidono gli organi competenti si è deciso di riprendere le attività in presenza e noi siamo stati pronti fin dal primo momento, non manca per le scuole, per i dirigenti scolastici né per gli insegnanti. Il punto di vista degli studenti si è avuto modo di ascoltarli un po'? Stamattina sono passata da tutte le classi, li ho trovati molto sereni e anche contenti di riprendere l'attività in presenza, devo dire.